Sarà una vera e propria invasione di animazioni per bambini e famiglie, quella che per nove settimane, tutti i giovedì, vedrà protagonista il centro storico di Fano dalle 21 alle 23. Sulla scia della fortunatissima manifestazione, la città da giocare, dalla quale prende spunto anche per la locandina, partirà giovedì 29, gioco con la mia città, il giovedì sotto le stelle, con l'obiettivo di animare e creare intrattenimento per le vie di Fano, nella maniera più genuina e incontaminata, quella dei più piccoli. Aree gioco, spettacoli e attività per confrontarsi e divertirsi, un'occasione anche per i più grandi per tornare bambini per un giorno a settimana. Sì, è un'idea che è venuta a me guardando la città da giocare, la novità di quest'anno era quella della domenica mattina, ho visto una bella presenza e ho pensato di tradurla anche in un evento costante per l'estate. Quindi i giovedì sera dalle 21 alle 23 i bambini potranno venire in centro e trovare occasioni di divertimento, di gioco attraverso animazioni che ovviamente sono animazioni didattiche, sono per divertirsi ma sono anche animazioni intelligenti. È un modo per vivacizzare il centro storico, quindi un'offerta in più che guarda la famiglia che guarda ai bambini, poi i bambini portano sempre gioia. E mi piace sottolineare, essendo anche la farcità dei bambini, è anche un'ulteriore offerta che noi diamo anche ai turisti e alle famiglie che vengono nella nostra città, dove il centro è un luogo sicuro, dove i bambini possono giocare, magari i genitori possono bere qualcosa, fare una passeggiata o giocare loro stessi perché alcuni giochi possono far divertire sia i grandi che i piccoli.